Ciao, stai ascoltando The Fanks Book Club, il podcast del gruppo di lettura di Gabriella Giliberti e letture metropolitane. Io sono Giovanni Villani e mi occupo della post-produzione. Visto che esistono già troppi podcast dove parlano solo maschi, non vedo l'ora di ascoltare questa puntata. Prima di iniziare ti invito a seguire questo podcast in modo da non perdere i prossimi appuntamenti. Puoi trovarci anche sui social e unirti al gruppo di lettura cercando The Fanks Book Club su Telegram. Puntata 7, le notti di Salem, Salem Slot. Tremate, tremate, perché le streghe sono tornate, o meglio in questo caso le zanne sono tornate. Benvenuti e benvenuti e ben ritrovati soprattutto a questa seconda stagione del The Fanks Book Club che giustamente proprio per Halloween è ritornato in grande spolvero. Io sono Gabriella Giliberti e con me c'è... Flavia Capone. Meno male che tremate, tremate l'hai detto tu perché io ho un problema di errore e non sarei mai riuscita a pronunciare la frase interamente in modo credibile. Bene, sono molto contenta di questa seconda stagione, non siamo sparite, forse qualcuno ci dava per disperse, invece no. E torniamo con il botto, torniamo con un libro che è veramente un capolavoro. Perfetto per Halloween. Noi giustamente durante il periodo estivo ci siamo ritirate nelle nostre cripte e proprio come i vampiri riemergiamo quando c'è l'autunno e quindi con cosa potevamo iniziare questa seconda stagione del The Fanks Book Club se non con Le notti di Salem di Stephen King. uno dei miei libri preferiti in assoluto, nonché il mio secondo libro preferito di Stephen King. Mi sembra giusto, dove il primo è It ovviamente. In realtà il primo è Pets Cemetery. Ah, Pets Cemetery. It è il te. Ok, ok, ok. Salem Slott, appunto questo è il titolo originale di questo libro che ha lunghe vicissitudini anche editoriali ed è diciamo in ordine di pubblicazione il secondo libro di King. Quindi diciamo un libro quasi, non dico di esordio, di giovinezza, ma insomma siamo lì e voglio dire, giusto Stephen King fa prima Carrie e poi Le notti di Salem, veramente il genio assoluto. Il King. Dovevo. Ed è appunto una storia di vampiri, in effetti. Storia non classica ma con un vampiro, poi adesso tu entrerai bene nello specifico, però io l'ho percepito da persona che legge solo di vampiri, quindi non è che ho, insomma, questa gran competenza, l'ho percepito con un vampiro abbastanza, diciamo, classico nella sua cattiveria, ma appunto molto cattivo, senza scampo, con un fascino, la parte diciamo di fascino un po' nascosta, cioè che viene fuori proprio solo come ipnosi più che fascino, cioè un qualcosa che ti cattura ma tu non sei, cioè lo capisci che in realtà quello è un orrore che fa ribrezzo, no? Spiegami un po' tu che sai, che tipo di vampiro è quello di Stephen King? Allora, prima di tutto King parte letteralmente, Le notti di Salem sono il Dracula di Stephen King, è la cosa più vicina a Dracula che abbiamo letteralmente, ed è un Dracula che cambia un po' l'archetipo del vampiro, perché appunto sono anni in cui il cinema ha abusato letteralmente la figura del vampiro, ma soprattutto l'ha fatto in una maniera estremamente vittoriana, questi sono gli anni in cui ormai la Hammer è decaduta, la casa di produzione è praticamente decaduta, quindi nel 58 quando aveva ripreso la figura di Dracula, passando il testimone dal Bella Lugosi degli Universal americani all'inglese Christopher Lee, poi dopo diversi anni anche questi mostri cominciano a stancare, cominciano a stancare proprio perché in letteratura, tanto in letteratura quanto al cinema, questo tipo di mostro comincia a non fare più paura, soprattutto arrivano personaggi come la già citata Carrie oppure Rosemary's Baby, dove il male diventa estremamente più domestico, e quindi parlando proprio di male domestico inteso come comunità, allora King inserisce il suo vampiro all'interno di una comunità contemporanea per l'epoca, stiamo parlando del 1975, dove in realtà questo orrore, questa tensione psicologica che lui inserisce attraverso poi la figura del vampiro, ci parla di un marcio profondamente radicato all'interno della società, e questa è una cosa estremamente simile al pensiero di Bram Stoker. Stoker quando scrive Dracula, lo scrive proprio per criticare il suo mondo, il mondo illuminista, il mondo moderno che tanto si batteva contro i vampiri, perché diceva i vampiri non esistono, siamo persone razionali, per favore non crediamo a queste fandonie, ma così come non si crede i vampiri, decade anche un certo tipo di fede, un certo tipo di credenza nelle divinità, nel divino, quindi la fede non ci può salvare, e nel momento in cui decade il valore cristiano è proprio lì che il male può proliferare nel migliore dei modi, e quindi è proprio lì che i vampiri, i mostri come Dracula, possono affondare le loro zanne in questi territori e contaminarli. Esattamente quello che fa King, non inserendo ovviamente una dimensione religiosa, quanto più, anche se è molto interessante il modo in cui decostruisce la religione, è una delle scene più emblematiche nel libro, è proprio quando il crocifisso viene brandito da un prete e non ha nessun effetto. Nel momento in cui lo brandisce però un personaggio che ha veramente della fede, allora è lì che il crocifisso acquisisce potere, cioè il potere del crocifisso non è tanto il simbolo della croce, e quanto la fede che io inserisco in quel tipo di oggetto, quindi un prete basta, non può nulla. Ma infatti la cosa interessante, no no scusami tu, la cosa interessante è che in realtà la dimensione confessionale è quanto mai variegata, nel senso che ci sono appunto, come in effetti in America, tante confessioni diverse, tante insomma tra i protestanti, i cattolici, ma anche tutte le sottospecie delle varie, però non importa perché quando le persone si rendono conto di questo pericolo iniziano a indossare tutte le cose che hanno, che ribandano alla religione, dalla collana con il santo alla croce fatta con gli stecchetti, a qualsiasi cosa vanno a pescare nei gioielli di famiglia sperando di trovare qualcosa, perché lì è diciamo la fede che si avvicina alla superstizione, no? E allora se rimane solo lì il potere della fede è inutile, non esiste, perché è un simbolo e come simbolo non ha potere diciamo reale. Quando però poi c'è una scena importante in cui uno dei veri protagonisti che è Ben in realtà brandisce non un oggetto di fede ma un'ascia, la forza della sua disperazione, della sua voglia di distruggere il male rende quell'ascia imbevuta di acqua santa un oggetto totalmente religioso. Cioè lì a quel punto, a parte che io ci ho visto anche Shining in quel momento della porta distrutta ad asciate raccontata in quel modo, però insomma il fatto della metterci l'intenzione è quello che fa la differenza. C'è tantissimo di umano in questo libro, io ho trovato, rispetto anche alla componente del male. C'è tanto anche della risposta umana al male. Forse la cosa più interessante è vedere come le persone rispondono a questo male, come si cercano di non credere, come piano piano sono costrette a credere e come cambiano anche fisicamente una volta che capiscono che quel male è realtà. Cioè perché poi ci sono quelli che si ammalano perché diventano vampiri, no? Cioè vampirismo e quelli che si ammalano perché sono disperati. Penso a Mark, mi pare che si chiama. Mark, scusami, ma vabbè insomma il professore del liceo che praticamente già stava male di suo, no? Ha avuto un infarto all'interno del libro, ma praticamente si consuma, più capisce quello che sta succedendo e più si consuma, pur non essendo vampirizzato ancora. Quindi è interessante questa cosa. Lì secondo me entrano in contatto due aspetti interessantissimi. Da una parte, riprendendo quello che stavamo dicendo, la decadenza delle piccole comunità. Lui descrive con la sua Jerusalem's Lot questo progressivo declino di una piccola città americana che però è già in decadenza, è corrotta da segreti nascosti e da tensioni latenti prima ancora dell'arrivo di Barlow. Cioè non è il vampiro che porta la decadenza, bensì è il vampiro che si nutre di questo disfacimento che è già in corso. E questo in realtà ci racconta, proprio dal punto di vista umano, quanto il male sia una forza implacabile e insita all'interno, no? Di ognuno di noi. Questo per me è un collegamento perfetto a quello che è lo slasher negli anni 70, in modo particolare a film come Non aprite quella porta, Le colline hanno gli occhi e Halloween è la notte delle streghe. Dove se Non aprite quella porta e Le colline hanno gli occhi isolavano il male al di fuori dei confini della città ed era un male generato proprio da quei confini, dal capitalismo che ha fatto fare, no? Ha cacciato un certo tipo di popolazione troppo povera, troppo ignorante, non più utile al progresso. Dall'altra parte invece poi Carpenter con il suo film ci fa capire che il male è già all'interno della società e quindi il male si può incarnare anche all'interno di un bambino che è figlio sano di una società già corrotta, già così perversa e malata. Cosa puoi fare nei confronti di questo male? In realtà assolutamente nulla. Quindi Barlow rappresenta sicuramente il mare puro e antico che non può davvero essere sconfitto perché entrando diciamo così in una zona più o meno spoiler poi di Salem's Lot, alla fine del romanzo gli unici superstiti per quanto ci dia l'illusione, ci dia l'illusione di aver sconfitto il male, non l'hanno realmente sconfitto perché come giustamente dicevi tu Salem's Lot ormai è contaminata e non possono far altro che scappare, non possono far altro che fuggire sapendo di non aver debellato completamente quella minaccia perché non è una minaccia che si può debellare perché è quel tipo di male che non puoi cancellare nonostante tutti gli sforzi che un essere umano possa effettivamente fare e dal quale puoi solo o scappare oppure lasciarti corrompere. E poi c'è un altro elemento che è appunto anche quello un classico kingiano, l'interesse per i famosi outsiders. Questi vincitori tra virgolette che poi non sono vincitori nella storia ma diciamo i sopravvissuti sono effettivamente due emblemi di outsider da un certo punto di vista perché è vero che Ben che è lo scrittore è uno scrittore di successo ma è comunque uno scrittore e lo scrittore è notoriamente diciamo una figura un po' borderline oltre al fatto che King mette se stesso in ogni figura di scrittore che va a finire nei suoi romanzi ma soprattutto Mark il ragazzino è proprio l'emblema del nerd cioè del nerd contemporaneo questo è fissa perché sa tutte queste cose perché le legge sui fumetti io questa cosa l'ho amata cioè lui diceva tu sei espertissimo di vampiri con una scientificità che neanche veramente ma io leggo i giornaletti sui mostri cioè io questa cosa adoro questa cosa siamo tutti noi cioè siamo noi che leggevamo i piccoli brividi e che ci siamo effettivamente fatti una cultura da un certo punto di vista ma è bello che questa cultura del bambino è una cultura che in quel momento serve cioè è una cosa utile una roba che spesso viene considerata inutile se non addirittura da certe famiglie chiuse dannosa o un spreco di tempo uno spreco di interesse di energia diventa in quel caso una cosa utile una cosa che gli adulti non conoscono che hanno dimenticato e che dà a Mark un potere un potere anche credibile un potere veramente a quel punto che equivale quasi alla potenza della fede che e poi quello che veramente è fattivo questa cosa io l'ho amata tantissimo cioè mi so l'ho trovata proprio un gesto di tenerezza da parte di King non so se anche tu hai avuto questa sensazione no quello assolutamente ti dirò di più questa cosa viene citata poi in nel 1987 in Lost Boys di Schumacher dove loro riescono a capire che effettivamente la città è assediata dai vampiri proprio perché ci sono i due nerd della fumetteria super iper mega esperti proprio perché leggono fumetti proprio perché leggono libri e giornali sui sui vampiri che è il modo migliore no per potersi informare e quindi non farsi corrompere riuscire a sconfiggerli poi c'è da dire che Stephen King riesce a parlare ad un pubblico estremamente vasto è uno degli scrittori che consiglierei sempre ad un ragazzo perché volente o nolente lui ti sta parlando di infanzia in qualche modo lui per quanto magari non tutti i suoi libri ovviamente siano coming of age però c'è sempre questa enorme componente di passaggio Mark è un adolescente in qualche modo Mark rappresenta anche un po' Ben perché lo stesso Ben è il nostro protagonista che ritorna a Salem's Lot per poter scrivere il suo libro su quella casa che l'ha tormentato da bambino da ragazzino è un ritorno all'infanzia ed è qualcosa che poi ritroviamo spessissimo nella letteratura di King io penso sempre anche in questo caso a It per esempio c'è proprio questo continuo dialogare questo continuo passaggio fra presente e passato il non potersi tutti insomma questi incubi del passato ti segnano un punto tale che tu non ti puoi liberare e li devi affrontare non li puoi lasciare indietro questa è la realtà quindi Ben ritorna alla sua Gerusalemme slot che è veramente difficilissimo da pronunciare in inglese è uno scioglilingua tremendo per poter affrontare la Marston House questa casa che lo ha sempre attratto e al tempo stesso spaventato che è una cosa tipica no? La paura del minuto è una cosa tipica dei vampiri perché poi il personaggio del vampiro in generale tu sai bene che è una creatura che si nutre di sangue si nutre di vita ed è una creatura che molto probabilmente ti ucciderà al tempo stesso non puoi fare a meno di di restarne comunque affascinato di soccombere in qualche modo al suo potere ipnotico e carismatico no? Rimani ammaliato quindi è un po' come le farfalline che sono attratte dalla luce, quella luce loro è letale no? Moriranno a causa di quella luce però non possono farne a meno è più forte di loro. E a questo proposito al proposito del discorso dei bambini vorrei leggere un piccolo pezzetto che secondo me da un'idea tantissimo di questa cosa dell'adulto e della paura di quando era bambino no? Prima di assopirsi del tutto si trovò a riflettere non per la prima volta sulla peculiarità dell'essere adulti. Prendevano lassativi, bevevano liquori, assumevano sonniferi per respingere i loro terrori e poter dormire e i loro terrori erano mansueti e domestici. Lavoro, soldi, che cosa penserà l'insegnante se non riesco a comprare qualche vestito più carino per Jenny, mia moglie mi vuole ancora bene, chi sono i miei amici? Impallidivano a confronto con le paure che nel buio si infilano nel letto di tutti i bambini a dormirci assieme guancia a guancia senza che ci sia nessuno a cui confessarli nella speranza di essere capiti fino in fondo se non un bambino come te. Io questa cosa la trovo da parte di una poesia incredibile, nel senso che secondo me è proprio vero, nel senso che le paure che abbiamo da bambini sono delle paure fondative, questo poi l'abbiamo detto tante volte insomma parlando in questo podcast, sono le paure dalle quali attingono le storie dell'orrore molto spesso proprio perché sono paure ancestrali e giustamente come dicevi tu King ci dice che bisogna andare ad affrontarle lì dove sono nate. Lui ci ha costruito una carriera su questa idea di ritornare nel posto ad affrontare, pur non muovendosi di mezzo centimetro da casa sua manco a pagarlo, si vede che le sue paure stanno tutte là e lui le affronta evidentemente scrivendo nella sua casetta. Ognuno affronta il dolore, il trauma, l'orrore a modo proprio, poi io sono fortemente convinta adesso nella mia carriera attualmente ho scritto solo un libro ed è un saggio, sono fortemente convinta del valore e del potere terapeutico della scrittura, ma per me la scrittura è anche sofferenza, è un atto di sofferenza, è un atto lesionistico enorme perché comunque tu stai tirando fuori, estrapolando una parte di te e lo stai facendo in una maniera estremamente viscerale, poi magari non è per tutti così, non tutti vivono la scrittura in questo modo così orrorifico, definiamolo in questo modo. Io amo molto scrivere, ma mi rendo conto che nel momento in cui scrivo è un momento di profonda catarsi, al di là di quello che sto scrivendo ed è qualcosa che mi affatica, non mi fa fatica farlo lì per lì, ma una volta che l'ho fatto mi affatica tantissimo, però poi al tempo stesso mi rendo conto che questa fatica è dettata dal fatto che in un modo o nell'altro io ho messo a nudo me stessa, io mi sto confrontando con una parte di me, anche quando si tratta di analizzare un film, scrivere una recensione, perché comunque sto mettendo la mia conoscenza, le mie chiavi di lettura al servizio di una storia e quindi devo sviscerarla con la storia. Questo vuol dire comunque confrontarmi con quei temi, confrontarmi con quei personaggi e inevitabilmente confrontarmi con me stessa ed è un po' quello che fanno anche questi protagonisti qui, lo fanno spessissimo all'interno dei libri di King alla fine e lo fanno proprio confrontandosi con i mostri, con i propri mostri che tra quarti delle volte il sovrannaturale in King non è mai mero sovrannaturale, è sempre archetipo, è sempre metafora di qualcosa, di reale che fa molta ma molta più paura. Un'ultima considerazione la volevo fare con te e chiederti se avevi pensato una cosa simile leggendo l'importanza del tempo in questo racconto, in questo romanzo, del tempo, non solo del tempo cronologico perché la storia in realtà è come se tornasse indietro, come la leggiamo, no? Cioè leggiamo, la viviamo nel momento in cui accade con i protagonisti ma torniamo anche alla famosa origine del male, cioè capiamo da dove viene questo male insomma e perché ha deciso di stanziarsi da quelle parti. Però anche per esempio il succedersi delle ore del giorno e della notte da un certo punto diventa ovviamente fondamentale perché le ore del giorno sono quelle della salvezza in cui si può organizzare una ribellione, organizzare una difesa e quelle della notte diventano le ore dei vampiri. Io l'ho trovato, devo dire, molto, non solo un mero strumento, l'ho trovato usato in maniera molto intelligente il tempo in questo romanzo e da un certo punto di vista in poi questo ritmarsi di luce e notte, di luce e buio, diventa una componente di estrema empatia per noi che leggiamo. Cioè io mi sono sentita, l'ho letto di giorno e di notte questa storia e però mi sembrava proprio di starci dentro a un certo punto quando si contano i minuti prima di arrivare al momento del tramonto. Secondo me è reso veramente molto bene, cioè non è solo un espediente, è un modo vero per percepire la storia. È quasi una cronaca, io l'ho sempre detto come se fosse una cronaca, come se fosse obiettivamente un diario. Questo perché proprio deve diventare protagonista in un certo qual senso all'interno di questo romanzo, ma è una cosa che io provo spessissimo in realtà con i libri di King, riesco veramente a empatizzare molto con i suoi personaggi, anche perché poi King è estremamente descrittivo senza essere eccessivamente stucchevole, cioè non è come un Tolkien, un grande maestro ovviamente del fantasy, che però riusciva a scrivere la descrizione di una porta in tre pagine. Quindi no, King non fa questo, però comunque ti dà subito, hai l'immagine davanti, te lo fa immaginare in una maniera tale che quindi tu ci sei dentro e lo fa anche attraverso lo scorrere del tempo e dei giorni, anche perché ti prende un po' per sfinimento a un certo punto e questa è la grandezza secondo me, quando tu dici no, conti i minuti che ti separano dal tramonto o addirittura dall'alba, perché l'alba è sempre salvifica nelle storie horror, devo solo arrivare all'alba, se io arrivo all'alba sarò sopravvissuto, ce la farò, che tra l'altro, questa è una cosa che mi riporta molto alla mia infanzia, visto che ho sempre avuto problemi a dormire di insonnia, ho sempre avuto paura del buio, da grande amante delle storie horror, ho sempre dormito con la lucina accesa, quindi questo per me, quando erano proprio quelle notti in cui niente, ero estremamente turbata e tormentata, non riuscivo, ogni volta che ero lì per cedere al sonno, sentivo qualcosa che mi afferrava dal piede, una presenza che stava per schiacciarmi, sentivo cose, vedevo cose, ecco, dentro di me l'unica cosa che riuscivo a fare era guardare l'orologio e pensare che alle sei del mattino, no, alle sei del mattino sorge il sole, alle sei sarò salva, alle sei sarà tutto finito, ed è una cosa che ha un potere incredibile anche all'interno di questo film, di questo libro, che poi però è un mero potere, no, perché è una pausa, è una pausa, è una pausa perché poi la notte ritornerà sempre e comunque, tra 12 ore ti ritroverai comunque in quella situazione e così come appunto quel male è ciclico, quel male si ripresenterà, quel male ritornerà sempre e comunque. Bene, direi che con questo bel, diciamo, viaggio nell'infanzia sicuramente rilassante di Gabriella Giriberti, c'è il nostro ospite anche stavolta, torna alla nuova stagione di The Fanks e non pensiate che siamo solo io e lei ovviamente a raccontarcela, che è sempre una cosa bella e piacevole, ma ogni volta ci sarà anche quest'anno un ospite a raccontare e a spiegare, a discutere del libro in questione con noi. E visto che stiamo parlando di vampiri, che è un po' uno dei nostri argomenti preferiti, per questa puntata, quindi vampiri, king, vampiri di un certo tipo, non potevamo fare a meno di chiamare un ospite che ha tanto a che fare col vampirismo e in un certo qual senso è anche lui un po' un vampiro, quindi direi che è arrivato il momento di dare il benvenuto a Roberto Recchioni. Ciao, ciao, ciao. Ora voglio sapere perché vampiro. Giusto, Gabriella, dici? Beh, perché anche tu ti muovi molto nella notte, hai sempre questo look estremamente urban-gotico, no? Definiamolo un po' così, un po' James O'Barr. Oddio santo, ok, va bene. E tra l'altro, per chi non lo conoscesse, ma dubito fortemente, Roberto è uno scrittore, uno sceneggiatore, un fumettista. A breve, parlando proprio di vampiri, uscirà una sua rappresentazione a fumetti che io sono molto, molto curiosa di vedere. Ho avuto un piccolo sneak peek di Nosferatu, dato che tra l'altro uno dei film più attesi di questo 2024-2025 è proprio il Nosferatu di Robert Eggers, quindi non potevamo fare scelta migliore. Sì, che poi il Nosferatu di Robert Eggers, in generale, il Nosferatu ha parecchio a che vedere con l'operazione poi fatta dal libro di cui parliamo oggi. Bravo, esatto. Io direi, a questo punto, Gabriella, comincio io con la prima domanda, che è anche un po' un classico che faccio ai nostri ospiti e alle nostre ospiti, perché giustamente quando si parla di libri, quando si parla di storie, ma soprattutto, secondo me, quando si parla di storie dell'orrore, è bello ricordare qual è stato il primo incontro. E quindi, qual è stato il primo incontro di Roberto Recchioni con Salem Slot, Le notti di Salem? Ma, guarda, io sono stato abbastanza fortunato, nel senso, casa mia era piena di libri, perché sia mio padre che mia madre erano dei forti lettori e mia madre era appassionata di lettura classica, quindi letteratura russa, letteratura italiana. Mio padre, invece, era follemente innamorato del genere, quindi fantascienza, western e anche libri dell'orrore. I nostri amici, gli amici di famiglia, giravano più o meno così e rubai una prima edizione di Carrie italiana dalla libreria di un amico, lo lessi mentre loro giocavano a carte, me ne innamorai completamente e quindi il giorno dopo andai a comprare il secondo libro di King, che era appunto Salem Slot. Che, in effetti, poi anche nell'ordine sono proprio così, cioè in tempo reale, praticamente. Sì, io sono arrivato, cioè io non sono così vecchio di aver letto in tempo reale, ma ho avuto la fortuna di incappare nei primi tuoi libri. La cosa interessante di Salem Slot è che l'ho letto poi come alcuni altri libri di King più volte nel corso della mia vita e assume sempre un aspetto diverso, sia perché ci sono più edizioni del libro, l'ultima è quella con quella cinquantina di pagine che l'editore gli aveva fatto tagliare in origine, sia perché la stessa opera poi ha assunto un valore diverso, perché King ha finito per renderla un tassello della sua cosmologia fantasy della Torre Nera, quindi è capitato di rileggerla anche per andare a riconnettere i pezzi della Torre Nera. A livello storico è molto interessante Salem Slot, Salem Slot è interessante per tanti motivi, però proprio quando si parla di archetipo del vampiro, Salem Slot arriva in un momento in cui cominciamo a subire un grosso svecchiamento del vampiro e diciamo che King è stato uno tra i primi a raccontare, anche prendendo, facendo di Salem Slot un po' il suo Dracula, però a raccontare i vampiri in una maniera differente. a me fa molto ridere il fatto che Stephen King e Dan Rice siano usciti bene o male nello stesso momento parlando di vampiri in una maniera completamente opposta letteralmente, mentre King è estremamente più brutale col suo bar love, invece la Rice opta per uno stile molto più elegante, molto più barocco e in alcuni casi se vogliamo estremamente sdolcinato, ecco, definiamoli in questo modo. Secondo te cos'è che distingue però veramente Salem Slot da tutte le altre storie di vampiri che abbiamo letto e visto soprattutto fino a quel momento? Ma sai, Salem Slot esce in un momento molto particolare sia per la figura del vampiro sia per la carriera di King, nel senso nel 1975 che poi è l'anno di pubblicazione, King inizia a scriverlo grossomodo alla fine del 73, il vampiro è una figura stra abusata al punto che è arrivato nella Black Exotation, nel senso il cinema peggiore o comunque quello più di serie Z ormai ha reso la figura del vampiro veramente logora e abusatissima. L'idea di King di riprendere in mano un tema, un troppo così logoro è piuttosto coraggiosa, all'epoca sembrava quasi un suicidio editoriale al punto che la gente di King lo sconsigliò fortemente di far sì che Salem Slot fosse il suo secondo romanzo, sia perché lo avrebbe inevitabilmente marchiato per sempre come scrittore horror che non era ancora una cosa assolutamente certa in quel periodo, nel senso aveva pubblicato solo un primo libro e quel primo libro poteva essere un po' tutto, si conteneva elementi horror però poteva essere anche un thriller con elementi paranormali che era Carrie, sia perché appunto, ma chi li voleva ancora leggere i vampiri? Invece il 75 diventa un anno, come dici bene tu, anche per il rise di grande rivoluzione del vampiro. King parte dalle sue suggestioni dell'epoca, le sue suggestioni nell'epoca erano molto legate alla enorme sfiducia che un certo tipo di americano provava nei confronti del governo, c'erano stati tanti scandali, si era scoperto che la CIA era dietro a tantissime operazioni segrete che poi non erano più segrete perché erano emerse terribili e quindi quella tematica King poi se la porta presso tantissimo, finisce anche in Firestarter e in altri romanzi, nel senso quella generale sfiducia nei confronti delle istituzioni e in questa misura il vampiro che entra in una piccola comunità e la deforma con un intervento dall'alto si va a iscrivere anche perché poi gli riferimenti di King sono abbastanza specifici, nel senso l'idea è di quelle semplici e folgoranti perché nel romanzo mi dilungo un attimo sulla genesi. King ha una mezza idea che condivide con la sua eterna moglie Tabitha che cosa succederebbe se il conte Dracula arrivasse oggi nel mondo moderno e la moglie piuttosto cinica gli risponde finirebbe a New York e verrebbe investito dal primo taxi che capita. King sente questa affermazione perentore dalla moglie e mette da parte l'idea dicendo beh sì forse ho pensato una stronzata però gli rimane lì, gli rimane lì e gli dice però forse è vero una grande metropoli non sarebbe adatta per il ritorno del conte ma una piccola comunità e dalla piccola comunità fa il salto mentale e dice in una piccola comunità come Payton Place quindi l'idea è di creare una piccola comunità piena di misteri, di segreti di famiglia, di rapporti interconnessi, di piccoli orrori quotidiani e portare invece un orrore macroscopico. La città poi di Salem, lui l'aveva già esplorata, era un racconto che poi viene pubblicato dopo, che non sbaglio qual è il titolo, Salem Slot e basta forse, che viene pubblicato nell'antologia a volte ritornano e quell'antologia l'aveva usata come sfondo per un racconto tipicamente Lovecraftiano quindi c'è un verme, un libro, un verme gigante, un libro maledetto, è proprio un racconto pieno di rimandi alla cosmologia di Lovecraft. Poi ci torna sempre nell'antologia in un racconto breve, nell'antologia di... a volte ritornano con un racconto che si intitola se non sbaglio il bicchiere della staffa in cui praticamente c'è un elemento, alcuni personaggi che poi invece diventano il cuore narrativo del romanzo principale. Inizia a scriverlo, riscrive questa rilettura abbastanza fedele poi del Dracula di Stoker come proprio struttura generale, quindi in questa piccola cittadina tutto parte da una questione di comprarsi casa perché ultimamente sto lavorando su Dracula e mi fa molto ridere come Stoker decide di fare questo romanzo horror su questa figura mitologica legata al folklore dei Carpazzi, questa creatura nobilissima e poi la questione è una questione di un mostro che si vuole a comprare a casa e trasferisce sostanzialmente. E poi c'è un brutto problema con un notaio. Le cose più brutte sono sempre i trasloghi e le vendite di case. Mamma mia. Ma è un errore di Tecnocasa, Dracula. Chiaramente è un errore di Tecnocasa in cui i protagonisti sono un notaio, un agente immobiliare dei brutti vicini. Alla fine se ci fosse stato del buon vicinato Dracula si risolveva molto più facile. Però il presupposto è esattamente lo stesso, nel senso il vampiro di King arriva nella piccola comunità di Salem e compra una casa. Sta casa è una casa che questo scrittore sente come luogo dell'orrore perché da ragazzino ci ha trovato dentro un uomo impiccato. Anche questo è un racconto biografico di King che ha fatto un sogno analogo in cui si è visto impiccato dentro questa casa orrorifica e quindi lo riporta nel romanzo e da lì ci muoviamo su uno dei romanzi peraltro non il più nero di King e probabilmente Pezzemeteri ma che comunque è decisamente spietato con i suoi protagonisti. A questo proposito un po' l'abbiamo già accennato, l'hai accennato tu parlando di questi luoghi. I luoghi sappiamo che per King sono fondamentali e in generale per le storie horror sono particolarmente importanti e in questo caso come abbiamo detto all'inizio concorrono anche a formare un immaginario, un universo kingiano che poi si espande. Quanto sono importanti i luoghi nella storia horror, in questa storia in particolare e mi riferisco non solo alla città che praticamente è viva ma anche alla casa stessa ma anche a altri piccoli luoghi simbolo che lo fanno diventare un po' una specie, non dico di monopoli, però insomma di gioco da tavolo dove ogni pedina ha un suo posto particolare e riveste un ruolo particolare. E nel secondo romanzo diciamo che King su Salem prova tutta una serie di cose che poi diventano dei suoi luoghi tipici, sia narrativi che proprio luoghi fisici, quindi inizia a costruire quel suo universo. Salem non è tanto diversa da Castle Rock o da Terry, ha gli stessi meccanismi, è popolata da personaggi che sembrano quotidianamente normali, cioè sembrano persone amene qualsiasi ma poi è piena dei segreti e d'orrori e di piccole mostruosità che ognuno nasconde agli altri. E qui nel romanzo peraltro ci sono tantissime cose che poi King reinterpreta più avanti, cose preziose praticamente, è la stessa cosa, l'Helan Gaunt arriva a Castle Rock proprio come il vampiro di Salem Sloth che apre un antiguariato. Quindi incomincia a crearsi quello che possiamo definire tutti i topos letterari di King. Da lì in poi alcuni sono dei meccanismi ultraclassici come appunto la casa maledetta, altri sono propriamente detti di King, ma di fatto quello che fa il buon vecchio John Stephen non è altro che mettere a codice qualcosa che Lovecraft aveva già fatto prima, quindi la creazione dei luoghi come la, che ne so, Lovecraft ha la sua Arkham University, ha le sue città chiave, King è semplicemente la replica, gli ruba proprio quel meccanismo per cui nasce un nuovo universo, dei nuovi Stati Uniti in cui noi sappiamo che attorno al Maine ci sono un po' di cittadine in cui io non mi fermerai con la macchina. Una è Salem, una è Castle Rock e l'altra è Derry. Peraltro nell'ultima serie televisiva dedicata a Stephen King che era Castle Rock, Derry e casa Mars diventano elementi protagonisti nella seconda stagione proprio a indicare come in quel triangolo della morte del Maine, quello sia uno dei luoghi nodali dell'orrore. Questo decadimento della comunità che vediamo all'interno di Jerusalem's Lot e che è molto forte, una componente spesso e volentieri molto forte del Maine all'interno dell'opera di King era sia metafora di disfacimento morale e sociale di quei giorni, ma secondo me è letteralmente morale di disfacimento e decadimento sociale dei nostri giorni. Cioè forse è uno di quei testi che tu dici e posso leggerlo in qualsiasi epoca, comunque è ancora così dannatamente attuale. Forse perché anche con la figura del vampiro, io non so, mi aspetto anche un po' questo, probabilmente da Robert Eggers, si sta ritornando a portare il vampiro in quel tipo di dimensione lì. Ma sai, il discorso è che le piccole comunità sono sempre lo scenario perfetto per diventare rappresentazione del macro, il micro che rappresenta poi tutto l'universo, quindi il romanzo di base che è appunto I segreti di Peyton Place, che a sua volta influenza anche per dire Twin Peaks, cioè la piccola comunità in cui tutti quelli che ci vivono dentro hanno qualche segreto e questi segreti vanno dai segreti sessuali, ai segreti economici, ai veri e propri crimini, agli omicidi, ai ricatti. È appunto una grande metafora che rimane attuale perché noi viviamo così, noi viviamo dei piccoli segreti, di meschinità, di cose che non riveliamo e in quelle cose lo scrittore dell'orrore sa che si annida appunto il terribile, l'orrore, il mostruoso e poi il discorso sclaviano dei veri mostri siamo noi e che quindi dietro la faccia del borghese medio, che poi l'orrore quello fa generalmente, cioè stigmatizza l'uomo borghese medio, gli orrori che si nascondono dietro quella che pare il perbenismo e la quotidianità del vivere. Quindi poi tu porti un personaggio come Dracula, ecco lì che Dracula o in questo caso Mars, ecco lì che hai un acceleratore, tant'è vero che il vampiro di King fa una cosa che raramente capita negli altri romanzi dell'orrore, cioè la comunità viene letteralmente vampirizzata, lui non ci pensa proprio un attimo a trasformare gran parte delle sue vittime in vampiri e quindi Gerusalemme, la cittadina, Gerusalemme, Lot, Salve, Lot diventa rapidamente un vero e proprio covo di vampiri e poi la cosa divertente di King è che appunto forse perché Unrise ancora non è emersa mentre lui scrive quel romanzo, il vampiro di King è cattivissimo, non c'ha nessun tipo di... Avviva Dio, anche se non è il termine giusto forse così... Non c'ha nessun tipo di fascinazione, cioè nel senso non ti prende la voglia di venire vampirizzato da Mars, anzi... Devo dire che c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente in questo libro e che ho trovato anche molto molto ben raccontata, cioè King a un certo punto fra proprio una digressione della differenza tra l'adulto e il bambino rispetto all'orrore e io l'ho trovata una cosa veramente molto lucida da dire anche in una situazione estremamente poco lucida e praticamente lui facendo riferimento a questa figura meravigliosa del bambino che è Mark, che è veramente la figura della cardine secondo me di questo libro, anche nel suo rapporto con il male, anche lui estremamente lucido nell'essere bambino e King scrive proprio che l'orrore del bambino è un orrore che non può essere ovviamente né sottostimato né si può risolvere, lui dice non bastano anni di psicoterapia, non basta psichiatria o assistenza sociale in soccorso del bambino che tutte le sere deve vedersela con la cosa sotto il letto o in cantina ed è come se questa vicinanza del bambino all'orrore lo rendesse anche più potente perché l'adulto è come se avesse diluito questo senso reale dell'orrore e quindi ne sia molto più sorpreso quando si rende conto che è vero. È un ragionamento semplice da un certo punto di vista ma io l'ho trovato molto bello scritto su carta, ecco vorrei che mi dicessi un po' che cosa ne pensi anche di questo rapporto fra adulto e bambino rispetto all'orrore. Sì quella è un'idea che poi di nuovo King reinterpreta spesso sia in Steinberg sia poi chiaramente in It ma comunque i suoi romanzi sono pieni di ragazzini e King ti dice che il bambino non avendo ancora una linea chiara tra ciò che è reale e ciò che è irreale che la notte quando spinge la luce può effettivamente credere all'esistenza del mostro sotto al letto, del mostro dentro all'armadio, della creatura che si cela nel buio è più forte quando ci si confronta perché la sua mente non viene squassata, non viene violentata dall'arrivo dell'impossibile. È più disposto ad accettare l'impossibile perché in qualche misura gli è più vicino. Quindi qui torniamo a Lovecraft. I protagonisti di Lovecraft sono sempre prossimi alla pazzia perché si trovano davanti all'orrore indicibile che la loro mente non riesce a contenere. La mente del bambino invece riesce a contenerla e quindi può affrontare il vampiro, può affrontare Pennywise, può affrontare tutti i vari mostri che King mette davanti ai suoi piccoli protagonisti. Poi i bambini di King sono sempre bambini per modo di dire perché ragionano sempre incredibilmente da adulti, però sono affascinanti anche per quello, per molti versi. Io chiudo con un'ultima domanda che un po' unisce tanto Stephen King quanto in realtà te come autore, come scrittore, perché King esplora il male come una forza radicata nella comunità stessa e non solo come una minaccia sovrannaturale. In molte tue storie vediamo anche una componente umana molto forte dietro il terrore. Quindi quanto è importante bilanciare il male sovrannaturale con quello umano in quella che possiamo definire una buona storia horror o una buona storia in generale? Ma sai, King è uno scrittore horror che ritiene che esista un male assoluto. Cioè in questo è molto l'americana da predicatore. Cioè lui esiste, crede realmente che il male nella sua forma più pura, che non prevede sfumature, non prevede retenzioni, esista. Oggi che viviamo in un mondo di relativismo in cui tutti i cattivi della narrazione hanno le loro ragioni comunque, che è un modo moderno, nel senso nel mondo reale, moderno nessuno pensa di essere cattivo. Cioè tutti, anche i peggiori dittatori della storia sappiamo che pensavano di agire dal loro punto di vista nella maniera giusta. Quindi non è che si svegliavano la mattina e dicevano come faccio a essere un cattivo Disney oggi. Però questa narrazione moderna che cosa fa? Indebolisce enormemente la figura del malvagio. King invece crea delle figure malefiche che sono male assoluto. Il Pennywise, cioè Hit, la creatura che viene prima del tempo e che lotta contro la tartaruga, è il male assoluto. Non vuole qualcosa di positivo, non vuole qualcosa per un interesse comune in cui diceva che questa cosa poi andrà meglio per. Vuole semplicemente annientare chiunque è davanti, il suo vampiro, idem, non sta costruendo qualcosa, non ha buoni motivi per fare o comunque motivi comprensibili per fare quello che fa. Non c'ha una brutta storia nel passato per cui è un povero vampiro, vampiri traumatizzato e quindi se la prende con noi. Quindi in questo io mi sento molto diverso da King perché io sono uno scrittore inevitabilmente più corrotto dal grigio del moderno. Però dall'altro canto crediamo entrambi che il male nella sua forma più ipocrita si annita nelle persone. King è un maestro nel creare personaggi terribili che raramente sono le figure malvagie principali ma sono la signora bigotta di The Mist che crea la sua comunità terribile e prende il controllo religioso dei personaggi chiusi nel supermercato. Sono la madre di Carrie, la madre di Ben, di Eddie, Neat. Sono questi personaggi ipocriti che finiscono per essere peggiori dei mostri assoluti di King perché i mostri assoluti hanno la loro purezza. Quindi dici ok è il male ma il male è incarnato tutto sommato è fedele alla sua natura e va bene così. Mentre le varie, in particolare sulle madri King se la prende spesso, sulle madri, su certi tipi di donne, su certi tipi di religiosi e di ottusi e di bigotti King invece dimostra un male molto più sgradevole, per molti versi anche molto più terrorizzante perché è un riflesso di noi stessi. Grazie mille, grazie a Roberto Lecchioni con il quale abbiamo parlato di Salem's Lot e le notti di Salem. A me piace tanto più dire Salem's Lot perché proprio mi piace, mi piace come suona. Il Lot. C'è il Lot, esatto, c'è qualcosa di familiarmente più orrendo in Salem's Lot. Grazie mille Roberto davvero. Grazie a voi. Si conclude questa prima puntata di The Thanks, il podcast e vi lasciamo ovviamente con la lettura del prossimo mese. Il prossimo mese di novembre e il libro in questione è Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, scrittrice donna, scrittrice faro anche per Stephen King e quindi ci sembrava giusto, visto che l'amiamo alla follia, inserirla nel nostro podcast e nel nostro book club. Tra l'altro poi magari ve lo racconteremo nel prossimo episodio, io e Flavia ci siamo conosciute proprio attraverso Shirley Jackson. Vero, vero, attraverso le case infestate e in particolare appunto Shirley Jackson. E come sempre se volete partecipare attivamente al nostro book club potete iscrivervi al canale Telegram, trovate tutti i riferimenti anche qui sotto la puntata di questo podcast, potete ascoltare le puntate passate del podcast con tutti gli ospiti e i libri di cui abbiamo parlato e appunto sul gruppo Telegram potete discutere insieme a noi. Se avete voglia di lasciare commenti rispetto a questo podcast invece potete usare ovviamente la sezione adatta di Spotify. Grazie mille, a presto. Grazie mille a tutti e ci vediamo il prossimo mese.